Fatemi salutare Lando Maria Sileoni, ben ritrovato. Buongiorno, grazie. Presidente di Fabi, della Federazione Autonoma Bancari Italiani. Vede, noi abbiamo fatto un titolo che già punta ai mutui, cara casa quanto mi costi, perché la gente quando la vede poi si aspetta magari qualche consiglio su come relazionarci con le banche. Però prima io le volevo chiedere qualcosa del tema che sta scaldando i giornali, il POS, ci sono i no POS, abbiamo avuto i no BACS, ci sono i no POS, il pagamento con le carte di credito, con i Bancomat. Ecco, i commercianti lamentano il fatto che sono le banche che costano troppo. Allora, guardi, ho sentito, ho seguito i dibattiti anche, chiaramente, sulla vostra trasmissione, ma anche in altre trasmissioni. Diciamo che c'è un argomento che veramente ha bisogno di una chiarezza e di una trasparenza unica, perché il tema delle commissioni, essendo banche private, non possono essere cambiate con una norma o con una legge dello Stato. Allora, per abbassare le commissioni serve chiamare l'ABI, che è l'associazione sindacale delle banche, convocarla a Palazzo Chigi, come è già stato fatto in passato, e chiedere alle banche, quindi chiedere al presidente Patuelli, che si farà portavoce attraverso i gruppi bancari, di abbassare le commissioni. Essendo banche private, aziende private, chi sostiene che serve una legge dice una stupinaggine perché sarebbe una legge incostituzionale. Quindi, se la situazione dei consumatori, se la situazione dei commercianti vogliono portare avanti questo argomento, devono chiedere al governo di convocare l'ABI, che è l'associazione sindacale delle banche. Ma il livello oggi di queste commissioni bancarie, anche confrontato con il resto d'Europa, è più alto, più basso? A che livello siamo? Siamo nella media ormai, perché i costi medi delle commissioni deposte sono stati calati negli ultimi anni, quasi del 40%. Le faccio due esempi. Il Bancomat siamo passati dall'1,88% all'1,27%, quindi c'è un meno 30-32%. Le carte di credito hanno subito più o meno la stessa variazione, quindi dal 2,70% all'1,60% con un meno 41%. Se mi lascia dire anche il costo dell'apparecchio, in questo caso è sceso di oltre il 60%. Le faccio due esempi. L'apparecchio mobile è passato da 14 euro al mese a circa 5 euro al mese, e qui siamo intorno a un meno 60%. Il post fisso è passato da 24 euro al mese a 5 euro al mese, e qui siamo a una diminuzione del 66% fisso. È chiaro che, io lo dico sempre, i prezzi, i costi variano da banca a banca. Il cliente non si deve fermare soltanto da una banca, ma chiedere a chi è la banca. E metterle in concorrenza per spuntare magari il prezzo migliore. Però c'è un costo fisso che è l'apparecchio, ma di questo non si sta discutendo, perché l'apparecchio sarà comunque obbligatorio, visto che per cifre superiori ai 60 euro comunque saranno obbligati ad accettare. Quello che secondo me non arriva tanto è che è un costo percentuale. Quindi la teoria di dire «Ah, ma se la cifra è bassa io ci smeno più di quello che ci guadagno». Non ha senso, mi pare, di poter dire. Non ha senso. Perché non è un costo fisso. Quindi non è che se spendo 10 euro la banca si piglia proporzionalmente di più. Non ha assolutamente senso. Ma qui il problema, che ancora non è passato, quella che è la realtà, cioè che da 60 euro e un centesimo il commerciante è obbligato a non rifiutare la carta di credito del cliente. Questo è molto semplice come passaggio. Invece non è stato percepito nell'immaginario collettivo così come è. E l'altro argomento, ci ritorno sopra, perché è fondamentale, quando si parla di commissioni che sono alte, io ho già detto che le commissioni sono calate mediamente del 40%, siamo in piena linea con il resto d'Europa. Ma ho già detto che per poter cambiare, per poter farle diminuire ancora, non è sufficiente una legge dello Stato che sarebbe incostituzionale. Serve mettere intorno a un tavolo i rappresentanti delle banche con il governo e discutere di come si può far abbassare queste commissioni. Allora, detto questo, che mi sembra quindi che alcune argomentazioni sono totalmente insensate, forse bisogna anche dire, non so, chiedo la sua opinione, cioè, detto ciò che abbiamo detto, la lotta all'evasione passa davvero dal post, da chi compra 30-40 euro di spesa? No, io non ci ho mai creduto, anche perché lì molto probabilmente il governo dal punto di vista politico ha astutamente creato due argomenti. Il primo argomento è quello del post e quindi si sono tutti concentrati a parlare di un cambiamento veramente minimo, estremamente poco significativo, mentre magari l'obiettivo sarebbe stato, come realmente è, quello di portare al contante a 5.000 euro. Ma su qui voglio fare un'altra affermazione che non ho mai sentito da nessuna parte, la faccio lei con estremo piacere. Nel 2016 la Procura di Milano ipotizzò che nelle cassette di sicurezza degli italiani ci fossero 196 miliardi di euro. 196 miliardi. Quei 196 miliardi, secondo noi, oggi sono arrivati a 200 miliardi. Allora, non è politicamente corretto... In contanti, diciamo. In contanti, in contanti. Non è politicamente corretto per qualcuno sollevare questa situazione. Dal punto di vista elettorale, chi lo solleva fa perdere voti. Questo vale sia per cento destra che per cento sinistra. Ma la realtà è questa. C'è chi sostiene, ammesso che siano 200 miliardi oggi, cioè un 10% del PIL, c'è chi sostiene che, rimettendo in circolazione una parte o tutti, o come dire, la cifra completa di questi soldi, si possa far ripartire veramente l'economia. C'è chi sostiene invece che non è giustificabile rimettere in circolazione il nero. Ma l'operazione di 5, dei 5 mila euro, tra l'altro voglio ricordare a tutti che ieri l'Europa ha messo un tetto a 10 mila euro di contanti per tutte le nazioni. È vero che non c'era un tetto, ma in questo caso l'ha messo a 10 mila euro. In questo caso, credo che sia una misura dal primo gennaio, quella dei 5 mila euro, che in qualche modo possa dare una spinta significativa per far ripartire l'economia. Lei dice che alla fine se ritornano in circolo quei 200 miliardi ci guadagnano anche coloro che si sono sempre pagati le tasse. Ma guardi, ho ascoltato anche dei banchieri importanti che parlavano di trovare un escamodacido dal punto di vista giuridico, una soluzione giuridica contrattuale per riportare quei fondi che sono stati portati all'estero. Ma noi abbiamo, le ripeto, quasi 200 miliardi di denaro depositati fermo nella cassetta di sicurezza e, come dire, pensare a come poter riutilizzare in maniera legittima, in maniera pulita, quei soldi io penso che in una situazione del genere non sia un argomento da sottovalutare. Sileoni, ho finito il tempo per cui di Mutui la rinvito volentieri, ne parleremo un'altra volta. Grazie per essere stato con noi a mattino 5 e grazie a Lando Maria Sileone, Presidente di Fadi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.